Un piccolo lavoretto per poter utilizzare la carta dell'uovo di Pasqua è molto semplice. Possiamo prendere la carta, iniziamo a ritagliarla e usando magari la parte che più ci piace, come le tinte colorate oppure quello che abbiamo a disposizione, facciamo delle striscioline e possono farli i bambini più grandi oppure la mamma o il papà, chi può darci una mano e dalle striscioline ritagliamo poi dei quadrettini più o meno grandi. Poi prendiamo la colla, possiamo mettere la colla direttamente sul nostro disegno oppure un pezzettino alla volta lo incolliamo e poi lo mettiamo nel punto che più ci piace e iniziamo a fare, ad esempio, ho disegnato una farfallina all'aletta della farfalla. Possiamo fare qualsiasi cosa, adesso un fiorellino primaverile, io ho pensato alla farfalla perché si presta un po' con le ali colorate. Iniziamo piano piano a mettere tutti i pezzettini che abbiamo ritagliato. Con un po' di pazienza e un po' di lavoro, ecco qui la prima aletta che abbiamo completato e possiamo passare a fare l'altra ala utilizzando la stessa tecnica oppure cambiando il tipo di carta o il colore della carta. Ecco qui la nostra farfallina finita. Grazie. Grazie. Grazie.